L'oratorio di Rosciano apre la rassegna, quindi un compito importante. Eh già, abbiamo una bella responsabilità. Sì, noi lunedì saremo i primi, apriremo questa rassegna con i ragazzi dell'oratorio di Rosciano, con una bellissima commedia. Di che cosa parla? Qual è la trama, se si può svelare qualcosa? Ma vi voglio lasciare un po' di suspense. Diciamo che ci saranno tanti colpi di scena, ci saranno tanti ragazzi ed è una commedia da non perdere assolutamente. Quanti siete sul palco? Ah, sul palco i ragazzi sono una ventina circa, poi ci sono altre, una decina di persone che collaborano, quindi siamo una bella famiglia. Un invito a venirvi a vedere, facciamo. Beh, ci sono i ragazzi dell'oratorio di Rosciano che sono pini di energia, che non aspettano altro che vedere insomma tanta gente che gli fa tanti applausi.